...e pensanti sanzioni infernali per gli stessi, pertanto invitiamo gli spettatori a non esporre striscioni con simboli, premio, slogan, effettuare i cori di elaborazione e nel senso di responsabilità di tutti. Grazie e buona domenica di sport a tutti voi! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!